Alla fine c'è rimessa laterale, Gasbarroni si è molto complicato la vita, qui è una grande giocata con Grigera! Ztene! Grigera! Evidentemente è proprio Genoa la squadra con la quale vuole segnare di più. E qui Del Piero ha fatto un grande numero perché sul fallo laterale si è inventato un dribbling e c'era stato un netto fallo su di lui e Grigera ha capito che la palla poteva passare e poi è andato fino in fondo e stranamente nessuno del genere è riuscito a a mettersi davanti e devo dire che la posizione non era facile per fare gol. Qua da qui c'è Del Piero, vediamo questa intuizione, Criscito lo tiene e poi Grigera va fino in fondo, portiere lì. Riveribile Rubinio qua, però di punta e gli ha levato il tempo, hai visto Grigera? Con la punta proprio. Però Fabio lì il portiere deve essere mezzo metro più avanti perché è troppo sul palo e non copre abbastanza porta. Gol dunque di Grigera!